... ... ... ... Il 16, il 18, l'ho messa di culo, quattro fai, giugno del 2003, Alfa Sud e Spin, ora c'è degli almoni, questa è l'Alfa Sud e Spin, 165, Alfa Sud. La mossa! La mossa! No, no, il discolo! Lo circolo, ma sì, qua, l'ho pensata magari! Tanto costa alla parola! Gli ho chiamato la signora! Ah, un po'! Grazie. 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 Grazie.